signore e signori un bene ritornato a tutti in questo nuovo video dove avremo una cosa sola da fare e sarà soltanto e sempre solo una articuno buongiorno a lei ah le statistiche ti dicono mentano Pikachu è il tuo momento lotta fulmine è un uccello è di ghiaccio barra acqua non mi ricordo che cazzo è Pikachu lo dovrebbe asfaltare in poco tempo bravo perdi una mossa per fare il flesso ottimo noi continuiamo a fare il nostro simpatico fulmine perfetto ancora un colpezzo e siamo a posto tu cosa fai? agilità è una mossa utile direi ancora un fulmine e siamo a posto no è arrivato un gelo raggio così sull'unghia no Pikachu è congelato porca puttana ehm si borsa abbiamo un antigelo per caso antigelo che culo si grazie perfetto no vai in culati porca puttana ehm devo rischiarmela fulmine baffanculo ehm il nostro simpatico Articuno ha rotto abbastanza le palle allora Articuno contro Pidgee Charmander Wotortle Bulbasaur chi può dirlo? hm Wotortle vai ecco vediamo un po' se resiste allora prima di tutto facciamo borsa ehm dov'è 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 ah non ho più riviterizzati no eh niente no no è troppo riviterizzati usa ehm su Pikachu così almeno se becca i punti esperienze perché altro Fikachu torna in forza Articuno lo so riflesso va bene tu non ti preoccupare che metta giusto io adesso intanto non riuscirà a finirla abbastanza velocemente bolla raggio non serve a un cazzo ma l'imprante fagli un po' di danni gelo raggio non è troppo efficace bolla raggio ok non serve un cazzo lo so che mangiamo va bene lo stesso un altro gelo raggio ammazzati non è molto efficace ok dovremmo aver vinto con un po' di difficoltà perché ci hanno fatto secco Pikachu ma abbiamo vinto ok adesso sono cazzi amari allora preparati no lo siamo già sbagliato borsa allora prima ti devo far calmare perché ti muovi già troppo e poi borsa usiamo le Ultra Ball che sono più fighe preparati e la no perché è andata a destra ah quasi quasi eccellente no non è vero ho sminchiato malissimo preparati se stai fermo ti lancio porca puttana al centro ecco bravo attacca così tu non ti muovi più per un po' ti è porca puttana più alta devo tirarla eh infatti non l'ho preso tu stai di là quindi devo attaccarti di là così quasi eh no sempre troppo lento devo partire un po' prima mi sbaglio sempre se tu stai fermo ti potrai lanciare eh ti pareva che non andava di là mi ha sminchiato tutti i calcoli del cabalistici di sto cazzo me le vuoi far consumare tutte le pokeballs se la smetti di attaccare magari eh questa è buona eh questa è buona la sento che è buona eh infatti smettila di attaccare stai buono adesso eh baffanculo devi di nuovo attaccare ti venisse un po' di bene ma dai ma cazzo ma tutte le volte che tiro devi attaccare ti venisse un po' di bene eh tra qui l'ho pure sminchiata allora stai fermo stai fermo stai fermo mannaggia il cazzo ti venisse un accidente ah ti è questa è la lanciata con un po' di cattiveria e non è servita a niente niente eh borsa eh un'altra bacca argentata se no non non riusciamo ad andare avanti preparati e lancia adesso per sicurezza ma baffanculo così storto dai oh che cazzarola trent'anni per prendere un pokemon guardos grazie ce l'abbiamo fatta questo va a parlare del congelo umidità con tutta la neve e far cadere la neve interessante ghiaccio volante è messo a te uno in box poco non va bene ah ce l'abbiamo fatta pikachu che cazzo vuoi pikachu non riesce a credere quello che ha visto eh ti sei preso un cubetto di ghiaccio sui denti pikachu vedi te comunque signori anche articuno per oggi l'abbiamo preso ah che bello usare surf dentro le grotte eh eh già rilassante proprio comunque signori noi abbiamo concluso la nostra avventura nelle isole spumarine perché a parte lottare contro gli allenatori che lo farò poi io personalmente non mi viene in mente che ci sia altro da fare dove si esce in sto posto di merda scusate mi sono perso un pezzo forse si esce di qua vediamo un attimo forse no o forse si non mi ricordo più avviene lo stesso da qualche parte arriviamo qui c'è il coso ok scendiamo di qua che dovrebbe essere vagamente giusto ok perfetto si pikachu va bene bravissimo hai fatto cosa migliore che potevi fare ah saliamo di qua e dovremmo essere a posto ok saliamo ancora una e dovrebbe esserci uno zubat che rompe le palle ok signori siamo ufficialmente usciti dalle isole spumorine con un simpatico articuno signori detta questa vi faccio la solita domanda che avevo fatto l'altra volta con pikachu ovvero eh sì con pikachu buonanotte con zapdos cosa vogliamo fare lo teniamo al posto di non so visto che è un uccello di ghiaccio lo possiamo mettere al posto di di nessuno perché non è non è un po' come un di ghiaccio in squadra effettivamente possiamo mettere al posto di ghiaccio di war tortle il nostro simpatico articuno perché avrà degli attacchi anche di tipo acqua sicuramente e poi il nostro zapdos quasi sicuramente verrà messo al posto di pikachu a seconda sempre delle vostre risposte tanto giusto per la cronaca non mi ricordo se ve l'avevo fatta vedere ma andiamo quanti cazzi può cominciare andiamo a vedere le statistiche di articuno allora info grazie allora dunque mosse statistiche no potenziale devo guardare è un ho un attacco stellare una vita stellare una difesa stellare una velocità stellare praticamente è un tank è un tank perché attacco e difesa ce le ha bassine invece il nostro simpatico amico zapdos che è sempre qua con noi zapdos invece ha l'attacco e la vita a chiodo ha la velocità altissima e la difesa speciale quindi è più un tank per il cioè ha più attacco fisico e più difesa speciale per gli attacchi non fisici delle squadre di avversare insomma va bene signori detta questa a parte qualche cazzatina ci abbandoniamo ci vediamo nella prossima puntata come al solito lasciate i commenti per sapere se volete zapdos e articuno nella squadra e soprattutto articuno che è l'ultimo che abbiamo catturato e nel frattempo io vado a sfidare tutti gli allenatori che ho saltato nelle isole spumarini per farvele vedere al volo la tizia qua fuori e vado se non ci sono cazzini in mezzo anzi non ho ancora fatto una cosa scusate salva salva grazie dicevo vado a sfidarmi tutti gli allenatori vado verso la prossima meta che è l'isola cannella che dovrebbe essere la palestra di tipo fuoco e una volta fatto questo se non ci sono interruzioni di percorso ci vediamo quando sono già arrivato sull'isola cannella se invece vedo che durante le mie avventure c'è una cazzina del team rocket piuttosto che un incontro con qualche belva particolare o qualcosa del genere allora mi fermerò sospendo l'avventura e appena ho due secondi di tempo vi registro la cazzina barra la scenetta quello che c'è e andiamo avanti con la per il momento signori un saluto a tutti alla prossima e aspetto sempre i vostri commenti ciao a tutti